Buonasera a tutti voi, bentrovati. Nuovo appuntamento con l'informazione di Telemolise, l'ultimo della giornata. In apertura la crisi del settore dell'edilizia nella nostra regione, una crisi sempre più grave. La denuncia arriva dal presidente del Lance che ha attaccato duramente il governo regionale. Sentiamo in apertura Giovanni Minicozzi. Una crisi, quella del settore dell'edilizia e dei lavori pubblici, che dura da qualche anno, ma che si è accentuata negli ultimi mesi, portando imprese e lavoratori al collasso pressoché totale. Siamo alle catombe di un comparto che per anni ha trainato l'economia del Molise, ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente dell'Associazione Nazionale, costruttore Diri, Umberto Uriano, il quale, numeri alla mano, ha attaccato duramente il governo regionale l'ennesimo grido di allarme di una categoria alla canna del gas. Ormai non è più un grido di allarme. Il grido di allarme in realtà noi l'abbiamo lanciato esattamente all'inizio dell'anno scorso, quando in modo lambante veniva rappresentato quale poteva essere lo scenario del nostro comparto negli anni a seguire. L'abbiamo lanciato con forza, l'abbiamo replicato poi a fine anno scorso, esattamente nel novembre, in cui tutti quanti ricorderete la retta aperta che poi tanto clamore fece anche sulla stampa per le repliche che ha avuto. Adesso registriamo solamente un dato, né più né meno. Esattamente quello che noi immaginiamo potesse accadere è accaduto. 339 imprese hanno giuso, solo nel primo semestre del 2015 registriamo un meno 25% di occupazione e un calo dei bandi, sempre e solo, nel primo semestre del 2015 del 64%, credo, 69%. Registriamo in realtà la fine di un settore che è stato sempre elemento trainante nella nostra regione. In termini occupazionali quanti posti di lavoro si sono persi? Beh, non meno di 5.500-6.000 posti di lavoro, senza ombra di dubbio, insomma. Ma questo l'abbiamo in diverse occasioni rappresentato. La massa salaria è scesa da 60 milioni di euro a 26 milioni di euro, 25 credo, addirittura. Adesso i dati aggiornatissimi non li ho, però insomma stiamo parlando di una ecatombe, di un settore che ha rappresentato, potrebbe ancora rappresentare, ma i margini sono veramente ridottissimi, ripeto, ha rappresentato un volano importante per l'economia regionale. Ora ci sarebbero questi 91 milioni di euro da mettere in cantiere? Nella sola politica ci siamo espressi diverse volte. Quello che io, l'unica cosa che ho chiesto, è una sorta di onestà intellettuale, nel senso che non si può rappresentare alle imprese, così come è accaduto nella conferenza stampa di inizio anno, la possibilità che nel corso del 2015 si sarebbero stati 92 milioni di opere, quindi lasciando immaginare le imprese che è una boccata di ossigeno in termini di lavoro, non in termini di finanza, perché poi i pagamenti sono un'altra cosa. Ecco, non si può lasciare credere alle imprese che ciò sarebbe avvenuto, adesso registriamo invece che ormai siamo a metà anno, ma diciamo ormai settembre-ottobre, da un punto di vista operativo, abbiamo ancora pochissimi progetti che sono esecutivi e quindi che possono essere posti in gara, in appalto. Ci dicono che entro il 31 dicembre tutto verrà messo in appalto, perché altrimenti questi fondi verranno persi. Noi ci auguriamo che sia così, sarebbe altrimenti l'ennesima promessa che è venuta a meno. Dei tanti progetti annunciati, di certo quello della famigerata metropolitana leggera sarà pronto per fine anno. Intanto tramonta, almeno sembra tramontare definitivamente il progetto dell'autostrada del Molise, e ce ne parla Giovanni Di Tota. Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade del Molise S.P.A. ha convocato per il 10 settembre l'Assemblea straordinaria degli azionisti per mettere in liquidazione la società e nominare un liquidatore. Considerato il venir meno della quota di contributo pubblico ed il conseguente annullamento della procedura di gara indetta per individuare il soggetto concessionario, per progettare, finanziare, costruire e gestire il collegamento tra San Vittore, Lasse e Termoli, Campobasso e Isernia, si rende impossibile il raggiungimento dello scopo sociale, si legge in una nota dell'ANAS. Per questo motivo il CDA, come previsto dallo Statuto, ha chiesto all'Assemblea straordinaria la messa in liquidazione della società. Le quote azionarie sono detenute per il 50% dall'ANAS e per l'altra metà dalla regione Molise. Si chiude in questo modo quella che per qualcuno era stata una speranza inseguita per decenni, costruire cioè una linea di autostrada che consentisse anche al Molise interno di allacciarsi alle direttrici nazionali. I fondi, destinati alla prima fase progettuale, erano stati inseriti dal ministro dei lavori pubblici del governo Prodi, Antonio Di Pietro. Poi, cambiati i governi nazionali e regionali, con l'autostrada diventata terreno di scontro elettorale, sul campo si sono scontrate le proposte del raddoppio della Fondovalle Biferno e appunto l'allaccio a San Vittore. Con la decisione del CDA presa nelle ultime a Roma, su quest'ultima ipotesi sembra calare definitivamente il sipario. Per evitare di disperdere le risorse a disposizione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che gli investimenti residui già stanziati saranno destinati a mettere in sicurezza e migliorare le strade molisane, degli sviluppi urgenti e necessari sulla rete stradale del Molise, si farà poi carico direttamente all'ANAS, mettendo in campo tutta la propria struttura tecnica. E ora la cronaca con la notizia che è arrivata oggi della morte di un giovane immigrato di 24 anni, originario della costa d'Avorio. La notizia della morte è arrivata da Termoli. Sentiamo i dettagli da Fabrizio Occhionero. Dal mare era arrivato in Italia dopo un lungo viaggio iniziato in Africa e fatto di fatiche e di stenti. Una nuova vita nel centro di accoglienza di Termoli, ma per lui il mare è stato anche fatale. Un bagno insieme agli amici vicino alla scogliera, quando per cause da accertare, Conso Berte, 21 anni, originario della costa d'Avorio, è morto. Forse si è sentito male vicino agli scogli, ha bevuto e non è riuscito a tornare verso la spiaggia. I suoi amici, vedendolo andare giù, hanno dato l'allarme. Il bagnino dell'Ido Alcione lo ha soccorso e portato a riva per i primi interventi. Qui sono arrivati i sanitari del 118 e della Misericordia. A nulla però sono serviti i tentativi per rianimare il giovane emigrante, anche con un defibrillatore. Tutto davanti ai turisti che affollavano la spiaggia e i compagni che appena hanno appreso della morte del ragazzo sono accorsi dal centro di accoglienza, che si trova proprio lungo la strada. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Termoli e la capitaneria di Porto, accertamenti necessari per fare chiarezza sulle cause della morte di Conso, che si era ambientato in città, giocava a calcetto e si era fatto conoscere come un bravo ragazzo, sotto shock gli amici con i quali ha condiviso questa breve esperienza in Italia. Sono stati proprio loro a chiedere di poterlo portare in spalla dalla spiaggia fino alla strada. Prima della partenza ancora un momento di raccoglimento, una preghiera comunitaria davanti a quella che era diventata la sua nuova casa, il ricordo degli amici, prima dell'ultimo saluto. Ancora una scossa di terremoto, stavolta di magnitudo 3.3, è stata avvertita al confine tra la Puglia e il Molise intorno alle 15 di oggi. Il sisma è stato rilevato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a una profondità di 19 chilometri con epicentro a 2 chilometri da Tufara. La scossa è stata avvertita solo ai piani alti di alcune abitazioni, anche a Gambatesa, Riccia, Macchia, Val Foltore e Pietra Catella. E ora cambiamo argomento, parliamo dei problemi della sanità in Molise, e facciamo il punto con Enzo Di Gaetano. Una smentita che è una conferma, si tratta della nota per la stampa emessa dalla Presidenza della Regione in cui a doppia voce Frattura e il Direttore Generale dell'ASREM Pirazzoli invitano a non dare notizie infondate che possano allarmare la popolazione. Ebbene, qual era la notizia data da Telemolise? Eccola. Ieri abbiamo detto che il Cardarelli di Campobasso, l'unico che segue le epatiti a livello regionale, era sprovvisto dei farmaci salvavita Arvoni e Daclinza, necessari a curare le epatiti C con genotipo 1, 3 e 4. Ebbene, cosa risponde la premiata ditta Frattura e Pirazzoli? Presto detto, affermano Nero su Bianco che la notizia non è vera perché l'Arvoni e il Daclinza verranno ordinati venerdì, cioè domani. Quindi, riavvolgendo il nastro, Frattura e Pirazzoli confermano chiaramente quanto da noi affermato, e cioè che i due farmaci salvavita non ci sono. Ma come in Corea del Nord, siccome il capo ha sempre ragione, dobbiamo dire che la notizia è falsa, non perché i farmaci salvavita ci sono, ma è falsa perché saranno ordinati. Cosa aggiungere di più? È desolante. Parlare di quoziente di intelligenza forse sarebbe offensivo e non vogliamo farlo, ma invitiamo i due dell'Ave Maria, e cioè Frattura e Pirazzoli, a leggere i comunicati che firmano, perché rischiano di fare delle autentiche figuracce. Avrebbero fatto meglio a scrivere. È vero, c'è un'emergenza farmaci salvavita e stiamo provvedendo a risolverla. Invece, in un delirio di onnipotenza che si commenta da solo, prima accusano la stampa di dare notizie false e poi alla fine le confermano. Ma che fa? L'importante è dire che la colpa è dei giornalisti. Attenti però, perché i giornalisti scavano e stanno acquisendo notizie anche su un'altra clamorosa indiscrezione. L'ottica sarebbe quella del risparmio, ma attenti che anche qui, come per i salvavita, si viola la legge. E in Piemonte, un certo signor Guariniello, sostituto procuratore, ha già aperto un paio di inchieste. E il commissario frattura i vertici dell'Asdram nella bufera a causa della situazione di caos e di estrema difficoltà in cui è piombata la sanità, denunciata da un medico del Cardarelli nel corso di una conferenza stampa. Per noi c'era Anna Maria Di Matteo. La sanità molisana è ormai al collasso, schiacciata dal peso di provvedimenti calati dall'alto e avallati dal commissario frattura che stanno chiudendo ospedali e reparti. Una situazione al limite, denunciata con decisione da Angelo Di Stefano, medico del Cardarelli di Campobasso, che quotidianamente tocca con mano le conseguenze del piano di rientro dal disavanzo e dell'attuazione del decreto Balduzzi, un vero e proprio dramma che si ripercuote sugli operatori e sulla salute dei cittadini. Non siamo più in grado di garantire ILEA. Questa è una cosa gravissima. La cosa strana è che, mentre un direttore che è a contatto giornalmente con la gente e con le emergenze, fa questa nota al direttore generale e in definitiva dopo il direttore generale doveva avvisare gli organi competenti, invece a questi signori della nostra salute gli interessa poco. Non garantire ILEA significa che non possiamo garantire niente. Vi faccio un esempio soltanto banale per tutti. L'oculistica ha un solo medico e dovrebbe garantire la reperibilità e la presenza 365 giorni all'anno senza pigliare ferie, senza dormire mai. Questa è la realtà. Il dramma nostro è che non riusciamo assolutamente a capire che cosa vogliono fare. Sono obnubilati a livello mentale, cioè non hanno un progetto, non hanno assolutamente niente. L'unica cosa che sanno dire è questo no, questo no. Quello che dico io è facciamo fare le cose, facciamo le cose per le persone che le sanno fare. Questi signori, questi signori, detto dal TAR, non hanno fatto quello che dovevano fare e io ci aggiunco di più. Non solo non lo sanno fare, non lo possono fare perché non hanno i titoli e le competenze per fare una cosa del genere. Il disastro è evidente. Sullo sfondo restano alcune nomine fatte dai vertici ASREM condivise dal commissario Frattura contro le quali Di Stefano ha presentato numerosi esposti. Lui è stato nominato commissario, lui ha scelto Pirazzoli. Non può dire il dottore Frattura in pubblico che lui si fida di Pirazzoli. No, no, no. Tu devi controllare le delibere di Pirazzoli e quella fatta alla dottoressa Arcaro è una falsa dichiarazione. Me ne assumo tutte le responsabilità. E se è una falsa dichiarazione, dottore Di Laura Frattura, cacciali, se no ne rispondi anche tu. Intanto l'ASREM ha dato il via libera ai rimborsi delle spese sostenute da pazienti affetti da patologie rare, gravi, trapiantati o in attesa di trapianti in strutture sanitarie pubbliche extra-regionali e all'estero per prestazioni non effettuabili nella nostra regione. I rimborsi per 592 assistiti che hanno fatto richiesta riguardano il periodo che va da settembre 2014 a giugno 2015 per un totale di circa 290 mila euro. Voltiamo pagina e emergenza siccità nelle campagne di Campomarino. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Centinaia di ettari coltivati dai pomodori ad altri ortaggi. Ora i raccolti sono a rischio perché l'acqua non arriva e quando c'è arriva a singhiozzo. Queste sono le vasche di raccolta incontrata a tratturo a Campomarino, vuote come segnalato dagli stessi agricoltori del posto che parlano di un problema che perdura da circa un mese e hanno spiegato i responsabili delle aziende agricole non consente di gestire la raccolta nei campi rispetto alle previsioni e agli investimenti fatti all'inizio della stagione. È mezzogiorno e il termometro segna più di 40 gradi. Come vedete i pomodori ormai non sono più utilizzabili. Gaetano Lombardi, la situazione è davvero critica? No, la situazione è tragica, veramente tragica perché oramai questo campo all'industria non può più andare non può più andare all'industria né farlo per noi la salsa o il pelato perché oramai sono pomodori che hanno subito lo stress idrico lo stress atmosferico e quindi è un utilizzabile. Però il problema è grande perché questi sono pomodori che da più di 15-20 giorni vengono irrigati diciamo giusto per mantenere qualche pianta in vita però effettivamente questo campo non è più utilizzabile. adesso se noi guardiamo qualche campo di fronte che probabilmente è ancora più verde fra dieci giorni se noi non teniamo l'acqua quel campo automaticamente rimarrà come questo. Gli agricoltori si sono ritrovati proprio nelle zone rimaste a secco per fare il punto della situazione. L'acqua arriva a tratti ma a tratti brevi se arrivasse a tratti diciamo di almeno due o tre ore che uno potrebbe dare un po' di respiro a queste piante qua già saremmo più soddisfatti. le scuse che danno loro lì al consorzio di bonifica destro segno e basso biferno il presidente è la temperatura l'acqua è poca l'acqua non c'è voi state sprecando l'acqua non è vero niente noi l'acqua la utilizziamo quindi quando noi paghiamo per i nostri ettari vogliamo utilizzare l'acqua su tutti i nostri ettari che paghiamo non possiamo fare pure noi le situazioni di un ettaro sì o un ettaro no perché effettivamente ora ci sarà fra un giorno sarà un altro problema dei trapianti orticoli qui noi già abbiamo prenotato le piantine e che fra 10-15 giorni dobbiamo trapiantare e siamo senza acqua vedete voi tanti disagi per i produttori i cambi già si vedono sono distrutti proprio è una cosa proprio è una vergogna è una vergogna per noi produttori è un fallimento questo questo è un fallimento per noi quest'anno spazio ora alla politica possibile si tratta del movimento politico fondato da Civati dopo essere stato presentato a Campobasso ora arriva anche a Isernia sentiamo Enzo Di Gaetano possibile il movimento politico di Giuseppe Civati fa il suo esordio anche a Isernia promotori Alberto Gentile Marilena Ferrante Gianluca Baccaro anime inquiete della sinistra isernina rappresentanti di una mozione civile e sociale che non si riconosce nell'appiattimento attuale dove Verdini fa compagnia a Renzi Frattura sta con Patriciello e Brasiello vince le primarie del PD ma confessa io sono di centro insomma il piattume generale e l'assimilazione di tutti i modelli e di tutti gli slogan come quello della tassa sulla casa priva di Berlusconi e oggi di Renzi non sta bene a possibile di Civati che fa il verso al partito spagnolo Podemos il logo è un tondo rosa con il segno dell'uguale al centro un po' di mix arancione e viola che ricorda le battaglie dei movimenti degli ultimi anni un po' come il rosso di una sinistra a sinistra ma ancora una volta un'altra cosa questo è un movimento culturale etico e politico anche un movimento basato sulle idee penso che in questo momento servano tante idee viste e considerate che di idee ce ne sono poche e confuse un po' dappertutto sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista infrastrutturale diciamo che in questo movimento potrebbe esserci una rinascita e soprattutto nei volti nuovi non nella rottamazione che si fa da altre parti potrebbe esserci una svolta perché i volti nuovi potrebbero essere anche nuove idee e nuovi presupposti per il futuro per il futuro di una città di una regione di una provincia se esiste e di una nazione Alberto Gentile sbarca anche Isernia possibile con quali prospettive? La prospettiva di questo movimento è avere un'alternativa per la città di Isernia e anche per il territorio provinciale tutto il territorio provinciale noi vediamo in futuro che questo territorio lo spopolamento le varie situazioni la crisi economica ci porta definitivamente alla chiusura di questo territorio per cui siamo alternativi a questa politica io la chiamo Dorotea e quindi clientelare è una politica nulla facendo sostanzialmente non riescono a emergere a far emergere qualcosa nella città ma soprattutto con i giovani perché i giovani sono il futuro di questa città i giovani le donne i giovani parlo di naturalmente del sesso maschile e femminile quindi abbiamo questa nostra priorità abbiamo visto che non c'è foglia che si muove abbiamo detto qua ci dobbiamo mettere sotto e dobbiamo lavorare per un'alternativa a questo territorio sciopero domani dalle 17.30 alle 21.30 dei dipendenti della società di trasporto Sati la protesta è stata indetta dalla CISL e dalla Will contro l'azienda che denunciano i sindacati ha assunto un atteggiamento di chiusura rispetto alla richiesta di confronto più volte sollecitata dalle parti sociali siamo in tema di lavoro i lavoratori dell'impresa che si occupa della pulizia degli uffici della regione hanno manifestato davanti alla sede della giunta regionale vediamo servizio di Anna Maria Di Matteo ancora un presidio davanti alla sede della giunta regionale ancora lavoratori e sindacalisti a protestare contro un diritto che viene negato quello di essere pagati per un lavoro svolto regolarmente è toccato ai dipendenti dell'impresa che si occupa delle pulizie degli uffici regionali andare a manifestare davanti ai cancelli di Palazzo Vitale perché da mesi sono senza stipendi stanchi esasperati e in gravi difficoltà economiche un'altra vertenza che va ad inserirsi in una lista drammaticamente sempre più lunga l'azienda avanza praticamente ci ha comunicato non solo nella lettera ma anche in prefettura che non viene pagata la regione Molise da dicembre 2013 che la regione non si interessa di nulla rispetto ai lavoratori molisani perché la regione Molise non pensa davvero alla vertenza lavoro perché la regione Molise i politici molisani e i dirigenti molisani non sappiamo a che cosa pensano l'ennesima vertenza aperta ma con una particolarità dove stanno i soldi stanziati per le aziende che lavorano per conto della regione Molise uno stipendio solo di un consigliere regionale potrebbe sanare il problema di tutti questi lavoratori i consiglieri nostri regionali lo stipendio lo continuano a percepire continuano a percepire il gettone di presenza da 250 euro quando si riuniscono per un'ora in consiglio regionale è vergognoso la politica molisana ha perso il controllo ormai della regione è un fatto vergognoso ora invece ci occupiamo di ecologia e del progetto di una società che prevede di installare nei comuni del Molise un ecocompattatore ne ha adottato uno il comune di Vinchiaturo ci dice di più in questo servizio Giuseppe Carriera è il primo ad essere installato ma il programma della GECO è di dotarne uno in ogni comune della regione si tratta di un ecocompattatore un meccanismo che consente di raccogliere e differenziare rifiuti in plastica e alluminio in particolare bottigliette e lattine un ecopoint più facile da individuare e usare rispetto alla classica raccolta differenziata che peraltro incentiva chiunque a inserire rifiuti negli appositi contenitori questa è una delle tante iniziative che l'amministrazione comunale ha voluto mettere in atto per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell'ambiente sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti e sulla riutilizzazione delle materie quali plastica e alluminio in questo caso sicuramente è un vantaggio economico per il comune è un piccolo aiuto economico anche per le famiglie perché c'è questa incentivazione all'acquisto questa scontistica ma è soprattutto una valenza culturale molto importante il meccanismo oltre al riciclo di alluminio e plastica restituisce un incentivo a chiunque lo usi in pratica inserendo una lattina o una bottiglietta nel box la macchina restituisce uno scontrino ovvero il proprio coupon con un ecopunto che grazie alla sinergia con le attività commerciali di vintiaturo che hanno aderito concede al possessore uno sconto su ciò che acquista un'idea che invoglia chiunque a usare l'ecocompattatore e a spendere poi con gli sconti nei locali e nei negozi della propria città a settembre partiremo anche con il progetto nelle scuole porteremo nelle classi progetti di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali ed anche sul corretto funzionamento del macchinario questo è il primo è il progetto pilota di una lunga serie di installazioni che faremo in tutto quanto il Molise entro una decina di giorni partirà l'installazione al centro commerciale Oasi di Campobasso e sarà la prima di dieci macchine che entrano installate a Campobasso la nostra società conta di installare i macchinari in tutta la regione nell'arco di un anno e ci spostiamo ora a Sepino per la ricorrenza di Santa Cristina vediamo il servizio di Valeria Farina sono più di nove secoli di fede profonda e sentita con cui Sepino celebra e ringrazia Santa Cristina patrona del paese in questi giorni nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Santa rientra la sacra rappresentazione dei martiri di Santa Cristina che quest'anno giunge alla sesta edizione con più di mille visitatori tra fideli curiosi ed emigranti sepinesi rientrati in Molise per l'occasione l'edizione 2015 ha registrato un grandissimo successo con larga soddisfazione del comitato Feste Santa Cristina che ha organizzato l'evento noi ce l'abbiamo messa tutta abbiamo portato penso mille persone in questa splendida piazza e quindi è un grande successo il comitato Feste Santa Cristina ogni anno cerca di organizzare una festa di qualità con enormi sforzi ma questo ovunque ce la mettiamo sempre tutta lavorando tutto l'anno quotidianamente perché è un lavoro certosino che va svolto non solo a ridosso della festa la programmiamo con largo anticipo Novità di quest'anno è stata la recitazione dei martiri della Santa che hanno raccontato attraverso i testi di Maurizio Ferrante i momenti più dolorosi di Cristina interpretati dalle persone del posto con forte spirito di devozione verso la propria patrona Questa manifestazione che in effetti rappresenta tutti i martiri di Santa Cristina è arrivata alla sesta edizione è nata come una processione con delle scene statiche diciamo dove gli attori rappresentavano il martirio senza parlare poi mi hanno chiesto di diciamo drammatizzare un pochino la manifestazione e allora ho studiato due testi in particolare della vita di Santa Cristina un codice orvietano del settimo secolo e poi un testo interessante siciliano è un poemetto la storia di Santa Cristina di letteratura popolare Santa Cristina le cui reliche giunse Rossipino nel 1099 viene venerata con fede e spirito di comunità da tutto il paese sì in questa festa noi ricordiamo il martirio di Santa Cristina il 24 e in effetti c'è un grande fermento non soltanto nel paese delle persone del paese però anche tanti che vengono da fuori di fatti anche quest'anno stanno venendo molti molti immigrati è qualcosa che ci coinvolge coinvolge la gente insomma c'è la festa di Santa Cristina significa accoglienza di persone che vengono da fuori significa festa significa iniziative in effetti è molto sentita dalla gente e soprattutto molta frequenza anche nella chiesa perché proprio c'è la devozione a Santa Cristina i festeggiamenti iniziati il 22 luglio proseguiranno fino a domani e nell'ambito degli eventi organizzati in onore di Sant'Anna Ielsi c'è il premio La Traglia Etnie e Comunità che quest'anno ha premiato il patriarca di Bagdad Monsignor Luis Sacco il riconoscimento è andato al patriarca per l'altissima capacità di dialogo interreligioso tra i diversi credi presenti in Iraq e quello cristiano il premio inoltre è stato motivo di riflessione sui recenti attentati alle chiese cristiane in Libia in Siria e in Egitto e ora spazio alla musica al Comune di Sernia infatti è stata presentata la seconda edizione del Tetagordo Jets Workshop and Festival vediamo il servizio di Sergio Di Vincenzo La formula è stata collaudata l'anno scorso con buoni riscontri durante il giorno si studia musica a Santa Gabito la sera ci si ritrova nel centro storico di Sernia per i concerti e le jam session una sorta di jazz club all'aperto con un palco basso e tavoli e le sedi a distanza ravvicinata amplificazione fedele al suono acustico e illuminazione soffusa ed atmosfera organizzato dall'associazione Nuova Accademia di Jazz il workshop e festival torna in città per proporre grande musica da oggi fino a domenica un progetto che è partito l'anno scorso con l'associazione Tretto Accordo questo festival che ha la particolarità di avere al suo interno anche un workshop sono un quattro giorni di musica jazz nella mattinata ci sono questi corsi di formazione base per naturalmente persone più esperte che si terranno nel comune di Santa Capito dove parteciperanno per la prima volta ragazzi giovani ragazzi per venire un po' da tutta Europa che parteciperanno a questi workshop gestiti da questi artisti provenienti dall'America e da Israele che però poi nella parte serale saranno in piazza Celestino quindi a allietare le serate i sernini con questo jazz saranno gli stessi protagonisti dei concerti a insegnare musica il corso sarà aperto anche agli ospiti dei centri di accoglienza migranti della zona al fine di favorire un processo di formazione e integrazione prevista anche l'assegnazione di borse di studio agli studenti più meritevoli vogliamo preparare gli studenti ad essere dei professionisti nel mondo del jazz il più velocemente possibile in questo modo potranno essere professionisti in Italia in Europa o negli Stati Uniti e il secondo obiettivo è di insegnare ai musicisti che questa musica per quanto possa essere complessa e sofisticata deve essere accessibile a tutti non soltanto agli appassionati del genere e grandi artisti del passato del jazz come Dizzi Chillespi come Kaun Besi erano capaci di far arrivare il loro messaggio a persone che non avevano mai ascoltato la musica jazz e questo è uno dei fondamenti di questa musica perché è una musica del popolo Bene è tutto anche per questo appuntamento con la nostra informazione grazie per averci seguito il telegiornale di Telemolise torna domattina alle 7 insieme alla Rassegna Stampa buonanotte a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti